Voglio sentire un attimo Brambilla perché ha detto Friedman, è una tenaglia da una parte del nostro paese che è fermo perché è fermo tutto, perché la gente comincia a disdire le prenotazioni non per domani mattina ma anche fra due mesi, fra tre insomma Venezia è chiusa, il salone del mobile è rimanato a giugno ma poi c'è l'altro tema che dice Alan, cioè la Cina che era quella che tirava tutti se si ferma la Cina noi abbiamo un doppio problema, Brambilla Allora Mirta, per dirlo in estrema sintesi, alle piccole imprese, gli artigiani, i commercianti mancano i clienti come avete fatto vedere nel servizio, alle grandi imprese invece mancano le merci c'è un problema logistico enorme che sta esplodendo in questo momento e questo sta creando grandi guai, ti faccio un esempio, le tariffe aeree per trasportare le merci in Cina sono esplose perché essendoci più voli di linea che comunque caricavano anche delle merci e in questo momento lo fanno solo i cargo, i cargo hanno aumentato i prezzi ma questo aumento di prezzi può creare un problema ad un'azienda che non è neanche in grado di sostenerlo quel costo lì per mandare la merce a semilavorarle eccetera per dirla poi come ha detto la dottoressa Parsi, io temo che presto avremo bisogno anche noi non garantiti, noi imprenditori di assistenza da questo punto di vista però la mia proposta è che anziché darci lo psicanalista dottoressa a noi ci basterebbe che il governo ci dicesse cosa farà concretamente per noi perché su questa rete martedì sera è andato in onda il ministro dell'economia e io l'ho trovato inquietante nelle sue risposte come imprenditore perché lui ha sottolineato in continuazione ah sì ci saranno delle imprese che hanno dei danni ma ci sono quelle che non li hanno e l'ha continuato a sottolineare a me spaventa questa cosa perché? perché rappresentare che tu hai delle difficoltà al fisco italiano è un problema, è un problema enorme credetemi non è una cosa così banale già mi hai fatto litigare i commercialisti italiani tu l'altra volta tutti i commercialisti che me odiano pure col fisco italiano mi chiamerà pure l'agenzia delle entrate andiamoci piano Brambilla è una cosa fra me e lui perché lui ha fatto delle tali dichiarazioni contro i commercialisti qui che io sono stata travolta dalle lettere di protesta dei commercialisti quindi insomma è un contenzioso fra me e Brambilla ti girerò le lettere dei commercialisti che mi dicono Brambilla lei ha ragione ma non posso dirlo perché sennò i miei colleghi mi ammazzano ma te li giro dopo la pubblicità complessivamente quello che mi sento di dire con grande chiarezza è che c'è una marcia indietro cioè si cerca di riprendersi un po' il paese in mano perché bisogna che il paese ricominci a muoversi Brambilla io volevo dire al dottor Friedman che non concordo la sua diagnosi e le do già una brutta notizia stamattina Apple ha già detto che non recupererà il fatturato perso è impossibile da un punto di vista logistico loro hanno già stimato che Apple recuperi il fatturato perso in questi giorni per la mancata produzione degli iPhone ma non ho detto che le cose vanno male ma non ho detto che è facile ho detto che bisogna misurare i danni e poi spendere usare i danizi usare la leva ma non criticare facciamo parlare di Brambilla non è la volta Alan scusami Brambilla io ho capito quello che dice lei però come lei sa noi viviamo di aspettative se io aspetto di misurare i danni noi in Brianza diciamo ormai il recinto è aperto le mucche sono scappate chiuderlo a quel punto è doveroso ci mancherebbe altro ma intanto abbiamo perso lei direbbe Maverick se non sbaglio in mondo anglosassone si dice no abbiamo perso i vitelli ormai non riusciamo più a recuperarli secondo me sarebbe importante guardi un segnale molto forte ma per dirle come mi sono preoccupato la Lega ha fatto una proposta in dieci punti no? al governo dicendo guarda che devi intervenire solo con in questo modo io mi sono permesso di iscriverle agli onorevoli della Lega con cui mi interfaccio è assolutamente insufficiente sono pagnicelli caldi questi voi non capite la drammaticità del problema io per esempio gli amici che c'hanno gli alberghi che mi dicono Brambilla io cosa faccio licenzio o non licenzio si mi prestano anche i soldi scusi Brambilla le posso fare una domanda Giorgetti ha detto una cosa ieri alla Biuvette in Montecitorio dicendo tra poco ci sarà la reazione demente dei cedi produttivi si ribelleranno la settimana prossima ci sarà chi inizierà ad aprire le fabbriche lei è d'accordo lei li conosce i cedi produttivi ci sta dentro ma lei capisce cioè lei pensi quei poveri cristi nella zona rossa che non possono lavorare adesso stanno ascoltando questa trasmissione che sta dimostrando buon senso e che sta dicendo cominciamo a vedere anche le cose positive qualora lo stabilimento ce l'ha chiuso quella la merci ce l'ha da consegnare lì non gli operai fermi ma io insisto nel finire il ragionamento guardate una battuta noi in altre parole dottor Friedman dobbiamo prendere adesso delle decisioni perché se aspettiamo la fine di marzo non è detto che avremo la capacità allora scusatemi un attimo